Niente da fare Gianfatto non era nell'ultimo real Ma allora dove diamine si è cacciato? Chi l'ha preso se l'hanno preso e dove lo hanno portato? Devo tornare subito nella base operativa Per capire che sta succedendo Andiamo Oh mio dio! Oh mio dio era una trappola! Scappiamo! Corri corri corri! Oh no! No! La torre del Grifig è stata squarciata Mi hanno volutamente portato a pensare Di dover uscire da qui Per preparare una trappola Chi può essere stato? I nostri nemici sono stati sconfitti Probabilmente la stessa persona O essere Che ha preso Gianfatto Hanno riempito la mia torre Di TNT Per creare una trappola mortale Ma non ci sono cascato È andata esattamente come quella volta Nel Grif Al Realm del Monolite È passato tanto tempo Ma lo ricordo come se fosse ieri The Great Mountain I sopravvissuti della montagna Ok Si sta caricando il mondo E quella penso sia la montagna di cui si parlava Una montagna bella alta Con un ponte Un ponte che dà nel vuoto Perché c'è il ponte dei suicidi? Oddio ma C'è un pianeta? Al contrario Un server a dir poco particolare Comunque abbiamo cominciato da qui Dove c'è la scritta Out of order E un circuito qui sotto Che sembrerebbe appunto disattivato Forse una vecchia ascensore Non più funzionante Qui c'è della luce Molto molto strana Perché infatti c'è niente Una caverna Allora qui c'è una casa Casa di Leo Pirdo Allora caro il nostro Leo Pirdo Questo sarà il tuo letto E qui ci sono una serie di mappe uguali Ce ne prendiamo una Perché questa sembrerebbe essere Ah la mappa della mansion Non è la mappa di questa zona Ok materiali Diamanti Non sono tantissimi Però va bene Ci prendiamo anche questo materiale prezioso E queste qui potrebbero tornare utili Polvere da sparo Molto molto bene Guarda cosa c'è nei drop C'è anche della TNT Con la sabbia di fianco Va bene Va molto molto bene Qui c'è tipo Perché c'è una scala In mezzo alla casa È abbastanza bizzarra Come scelta Che dà la libreria Contrato di incudine Tutto quanto Non sembrerebbe esserci altro Potrebbe essere l'ingresso Di una caverna Oppure di un magazzino segreto O semplicemente Una fornace automatica A quanto pare sì Quindi ragazzi Ora sapete che c'è C'è che ci facciamo Più TNT possibili Arriviamo purtroppo solamente a 13 Mi servirà anche Un po' di selce Come al solito Ultimamente la selce è la cosa che Trovo di meno E mettiamo TNT questo modo E le facciamo esplodere Così disattiviamo La fornace Automatica Che tanto automatica In realtà non sembrava Cioè quindi era solamente Una fornace basta Potrebbe essere il caso Di fare una bella crafting table Qui sopra Visto che non ce n'è nessuna E che ci serve Di craftare un bel po' di robe Quindi andiamo a farci Soliti bastoncini Con i quali ci facciamo I soliti Attrezzi del mestiere Quindi uno Due E poi con il rimanente Ci facciamo una spalla E poi direi anche Un armor Full ferro In questo caso Bam Eccoci qui ragazzi Mettiamoci tutti a posto E siamo pronti A griffare da oggi Manca solamente un tassello A questo punto La ghiaia La ghiaia tanto agognata Ma sembrerebbe Che c'è tutto Un percorso Effettivamente Farm abusiva Di pecore Dove sarebbe Ah ecco qui C'è una farm Davvero di pecore Ma queste pecore Vengono uccise Ma scusa Perché ucciderle Basterebbe Una cesoia Uscite pecore Liberatevi Siete libere Brave Uscite da qui Bravissime Spargetevi per la montagna Inviate un messaggio Il griffer Era in blaze È arrivato Da questa parte invece C'era il percorso Che bucando La montagna Arriva fin qua sotto Dove c'è l'ingresso Forse io sarei dovuto Spawnare in questa zona Quindi al momento Quello che in realtà Mi serve è la ghiaia Possiamo prenderla Direttamente dai Percorsi E a questo punto Facciamo un paio Di acciarini E siamo pronti A dare inizio A tutto quanto Il casino Diamo fuoco a questo percorso E ovviamente anche L'ingresso Che siamo riusciti a trovare Solamente spostandoci Togliamo la porta Giusto per far capire Che abbiamo visto E siamo passati Dopodiché un pochino Di fuocherello Anche qui Anche qui Un toccatino qui Una spruzzatina là Sembra così Che sono un cuoco Facciamo anche qualche screenshot Che ne dite Nel mentre Qui dentro Cosa c'è? Oddio Blaze Sword Con Il trattino Per dire Road È una specie di tesoro Per me Fire aspect Bellissimo Questa spada La prendiamo subito E un sacco di oggetti Da blaze Che dobbiamo raccogliere Distruggiamo poi Tutto ciò che rimane Non deve rimanere Nulla nessuno Questa struttura Per fortuna è di legno Questa casa Per fortuna è di legno Ma non ci basta Perché ovviamente Metteremo anche Un paio di TNT Perché no? Una e due Facciamo esplodere Tutto quanto Distruggiamo il passaggio E perché no? Adentriamoci Anche nella zona Dall'Enchanting Table Dando fuoco A tutte quante Le librerie L'Enchanting invece Ce la prenderemo noi E una volta fatto Tutto ciò Scappiamo prima che Le fiamme purghino Anche me Blochiamo il passaggio A possibili Inseguitori Non sia mai che qualcuno Entri nel server Nel frattempo Quindi distruggiamo Il ponte Che non si è distrutto Mai nella vita Eeeh Non si è distrutto niente Quindi daremo fuoco Alle fondamenta Ma a questo punto Il vero fulcro Di questo server Parrebbe essere Proprio la montagna E c'è una sorta di casa Lassopra Casa di Dion E farm di vario tipo Ok Qui dentro c'è una farm Hanno anche un loro logo Una farm all'interno Di una montagna Tutto molto affascinante Effettivamente Farm Farm di polli Farm di ogni cosa Una TNT qui Secondo me Può fare davvero Un gran casino Tra l'altro In giro ci sono i segni Del sangue degli animali Oddio Oddio Quante mucca Abbiamo liberato Di sotto Aspetta Facciamola anche Con i polli Allora liberiamo I polli Ottimo Scendete E liberiamo anche i maiali Devono cadere tutti di sotto Così calpesteranno In automatico Anche loro Le farm Distruggendo tutto ciò Che rimane Questa è un'ideona Per un griffin Vai Tutti i maiali A bomba in giro Guardate che macello Ragazzi Andate Andate Calpestate E mangiate i campi Vi hanno intrappolato Finora Ma ora siete liberi Di mangiare Il loro stesso cibo E detto ciò Continuiamo a salire Arrivati a questo punto Dovremmo essere Sulla sommità del monte Non ancora Però qui c'è una casa Si gode anche Di una bella vista Attenzione Perché c'è anche un retro Qui Ma penso che Potrebbe essere L'interno della casa O Ok Qui si sale di sopra Bene Questo è il retro Ah no È una zona tipo canile Ma Mirtilla Non sarai tipo Mirtilla malcontenta Non si sa mai Vi potresti essere malcontenta Magari se ti liberiamo Poi sei più felice Quindi sì Questa è una vacca da latte A quanto pare Il cagnolino invece Jenny La cagnolina Quindi forse Diamoli Una via di accesso Qualora volessero scappare Questi animali Ma per il resto Non tocchiamoli Gli animali sono nostri amici Non si toccano Tramontando il sole Dovremmo muoverci Ed entrare In questa enorme casa Ok Una casa nella montagna Dunque Sì Sì E si direbbe Che è anche piena di cose Qui abbiamo un accesso Questo è l'accesso primario Che sto Carne di mucca Beh visto che è già smeltata È già cotta Io la mangerei Non mi farei molto Molti problemi Qua c'è una stranissima scala E una serie di armature Come a proteggere L'ingresso di questa casa Camera da letto Immagino Apparentemente sì Altro totem del non morto Prendiamocelo Cagnolino Drogon Allora Se non vuoi fare La fine di cal Ti consiglierei Di metterti Nell'angolino Perché ora Qui Facciamo fare Un bel Kaboom Un calboom Alla camera da letto Del tuo padrone Queste scale Madonna Ma sono Una cosa inaspettata C'è un enorme magazzino Attenzione Goblins sono i derivati Legno i derivati Wool Wool Coloranti Altra lana Drop dei mob C'è un altro po' Di polvere da sparo Ok Potrebbe tornare utile Va bene dunque ragazzi Il nostro marchio di fabbrica È fare almeno una piccola esplosione Nei magazzini Quindi Andiamo innanzitutto A farmarci Un altro po' Di TNT Giusto Un paio di pezzi extra Che andiamo subito a sfruttare Nel magazzino stesso Quindi ci mettiamo Kaboom Da una parte E kaboom Dall'altra parte Tanto di fornace E minerali smeltati E facciamo saltare in aria Questo magazzino La scala è rimasta integra Per fortuna Via la porta Dentro la TNT Attiviamola Con grande stile E facciamo esplodere l'ingresso Dovrà capire subito Che un griff È stato effettuato In questa casa Qui sopra Abbiamo invece La libreria Con una serie di enchante Ok ragazzi Investiamo Un'altra TNT Anche qui Poi termineremo tutto Con un po' di fuoco Va bene ragazzi A questo punto Non ci resta che uscire E fare il giro Abbiamo già visto Come si fa salire Quindi andiamo Bucca mirtilla Allora volevi essere libera Avevo ragione E beh Il fuoco ha anche fatto il suo Qui Ok ragazzi È arrivato il momento Saliamo In cima A questa enorme montagna Questa bella montagna È una bellissima montagna Ciao non di meno Dobbiamo ricordarci Che siamo dei griffer Abbiamo la spada Dei blaze Qui con noi E dobbiamo ultimare La nostra missione Vale a dire Griffare il pianeta Il simbolo Più appariscente Di questo server Per cui Il premio più ambito Piccoli griffer Che pian piano Ci stiamo costruendo Una via Verso la vittoria Che cos'è questa roba? Una Una mano del nether Che regge una sorta di Struttura sempre del nether Eh raga La mano del nether È piaciuta molto eh È piaciuta davvero molto Dovrei dargli un pochino D'affetto Magari migliorarla Andiamo a distruggere Il portale del nether Che cosa c'è qui dentro? Oh Ok L'abbiamo disattivato Casa di carmi 25 Ah è un'altra casa Proprio questa Aha Libri Blocchi del nether Guarda quanta roba Che hai Altra polvere a sparo Possiamo fare Un altro Sembrere poco Ma ci tornerà utile Perché siamo quasi al limite Correva l'anno 723 E io e i miei amici Eravamo nel land Missione per sconfiggere L'ender dragon Percorrendo la strada Di ritorno Sentimo una forte scossa Di terremoto Trovamo una grandissima Faglia nel terreno Il nostro villaggio Era un mare perso Dalla faglia sbucò Fuori Facendo tremare Tantissimo la terra Sotto i nostri piedi Questo monolite Andiamo a controllare Trovando questa casa In cima al monolite Sorretta da una mano ossea Proveniente da un'altra dimensione Sembrava una casa abbandonata Quindi iniziamo ad esplorarla Dal piano di sopra Proveniva un caldo pazzesco Trovamo un mob Dalle sembianze infernali Gigantesco Grazie al totem del non morto Riuscimo a sconfiggerlo Adesso io abito questa casa Per proteggerla Da ulteriori attacchi Affascinante Il mostro proveniente dal nether Per tua sfortuna è tornato Si sta riprendendo la sua casa Non sono io il mostro Però ne prendo l'eredità In qualche modo Armi leggendarie Master Sword Eh ok Armatura leggendaria Aspetta un attimo Tutta sta roba Ma ne vogliamo parlare Fanculo le verghe di Blaze Fammi prendere questa roba Facciamo dare fuoco ai tappeti E non ci resta altro Che produrre le ultime TNT In realtà l'ultima TNT Che sfrutteremo In questa stessa casa In quale punto? Io direi che per ottimizzare Quest'unica esplosione Che andremo a fare Andiamo a prendere Della banalissima sabbia In modo da Bloccare A questa altezza Un po' a metà Tra i due piani Della TNT E facciamo esplodere Guardate qui Che bel botto Che facciamo In questo modo Un'unica TNT È stata abbastanza ottimizzata Abbiamo bloccato anche L'accesso al piano di sopra E ora ragazzi Distruggendo tutto ciò Che sta alle nostre spalle Andiamo a fare visita Al pianeta di Recai E tra l'altro Questa montagna Mi ricorda qualcosa Questa montagna È un seed Che avevo dato In un mio vecchio video Sapete? È un seed Di quelli che si trovava Su internet Per le montagne Appunto Della savana Penso sia quello O comunque è molto simile Ma ora Reca What? What? No ragazzi Sto volando un sacco Però c'è un problema Ho cancellato il ponte Raga Raga Oddio Ma sei serio? Il pianeta di Recaio È pieno di TNT? E ci sono trappole Forse? No Potrebbe essere Tutta una gigantesca Trappola E noi la sfrutteremo Ragazzi Non abbiamo altro da fare Non c'è altro da aggiungere Questo server Perirà del lag Ma noi ci salveremo Con il totem Del non morto Oh mio dio Oh mio dio Sto per morire Rag Sto per morire Sta laggando tutto Lagga tutto Tra poco moriremo Ok Ma il totem Del non morto Ci riporta in vita Nel mentre Il pianeta È stato disintegrato Wow Wow A questo punto ragazzi Siamo riusciti Con grande successo A griffare Il monolite Ehi Aspetto Appena realizzato una cosa Sapete perché Si chiama il monolite Nel video che avevo fatto Dove spiegavo questo sito Lo avevo ribattezzato Proprio monolite Ecco da dove deriva il nome Era una citazione Al mio stesso video E ho capito solo ora Comunque Ragazzi Qui c'è una casettina Dove probabilmente Inizialmente Provenivano Gli abitanti del monolite E noi Andiamo a griffare anche questa Perché siamo persone pessime Avanzano anche Tre bellissime TNT Volendo fare le sboronate Noi ci salutiamo così Ragazzi Mettiamo queste tre TNT In giro Cediamo fuoco E ragazzi Io vi saluto Un saluto da Iron Blaze Spero che questo griffo Vi sia piaciuto Manco siamo morti In realtà Siamo per E poi No Non siamo morti Non siamo morti Mannaggia Volevo sprecare l'altro totem Facciamo così Aspetta Non va bene Non va bene Vai Ok Ragazzi Un saluto da Iron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti